Sono partiti e noi stiamo ancora mangiando in tutto ciò perché mi ricordo che io ho la differita non avendo sky quindi ce la guardiamo adesso che sono po' le 8 A me piacerebbe un sacco avere dei gemelli un giorno Questo lo metterò nelle cose dei video che non c'entra in una mazza in tutto ciò Mi piacciono Guido Mela, Guido Mela è una religione quindi punto Ok Forza bucati Vai amore Oddio 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 Ma Mark dov'è? Svegli è? Che cazzo ma come ha perso già posizione da partenza? Oddio Mark in penultima posizione Io adesso e sono da questa casa No vabbè ma quando mai Mark è stato ventiduesi? Cioè ma 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 quando? In che mondo? In che mondo? Sei pronta alla Mugella serena? Carica Carica Pro Alex? No Dicendo del mondo Mi viene da piangere il mio Sto rimontando però No sì sì Mark è bravo a rimontare Anche a montare però Cioè lui è il re di questa pista non esiste? Dai vai Mark Che lo può fare No ma merda L'ho dovuto No c'è un problema tecnico Guarda se tanto non c'è la vista Non c'è un plazzo C'è un problema tecnico C'è un problema tecnico alla frizione A mamma ta C'è No vabbè No vabbè Dai cicciolino puoi farcela Cicciolino? Il mille è la sopra io lo amo Cosa è caduto? Cosa è toccato? Cosa è caduto? Cosa succede? No è caduto il Bez Ma dai Tamarro Tamarro dei nostri cuori Raga ma Marchino quindicesimo Ma ne voglio Vedete la mia faccia Quindicesimo Quindi Eh no Quattordicesimo Ma Marcolino Marcolino Dov'è Mir? Cosa ti ho detto? Che io con l'ottavo come partito Oh Mir Cantus però eh Allora Allora Già Dio Allora Io sto male Che ragazze Oh Dio Sette Oddio Questo video è fatto sotto le normative covid Ok Grazie dell'attenzione Allora per il podio Io punto per il bestia Il bestia sul podio deve essere Sì Deve E aver con Pun No E pece Oh mio Dio C'è una zona che sono delle cunette Anche Anche Ma come fa il suo amico a stare così inespressivo? C'è mille euro che ha poso una sbandata Che lui ci sono delle cunette lì Che bisogna stare molto Eh Marte non si può battere Non si può? Ho sentito uno youtuber Che ha fatto questa mattuta Se il comodino Cioè è comodo Quindi si chiama Comodino Se era scomodo Si chiama Scomodino Dai 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 Vai Marco Sì 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 Ho visto che stava superando Sì E di più Aspetta un altro a due giri Brava amore Fa sta e slap Sì Mangiati in tutti Oddio Oddio No Sto volando malissimo Nooo Nooo Tu! Adesso... No dai per favore, mi ricchi voglio bene, però devi far passare a piccola parte Davanti Oddio! 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 Sì! Brava bestia! Ma com'è che alla fine finiamo sempre per fare quelle bestie? Umana! No beh, io li ho visti per terra, non so te Eh sì Nooo Madonna, oddio Spavento che mi sono presa Pazzi, pazzi! Nooo Nooo Non ci credo C'è Nooo Time Thriller Miller riprendilo! È ainsi Exposive Ok Beh, Team Thriller Miller tutta la vita, quindi Anche se il mio cappellino potrebbe essere contrario È comunque rosso Rosso ducato È rossante Chi è il bur quelques Nooo No 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 no! Nooooooo! Ma laia di quella... C'era fatta! Un applauso su quanto è il basket. Però grande Marchino! Grande Marchino, grande Marchino! C'è sono comunque orgogliosa di come lui.